Le numerose associazioni che fanno parte degli stati generali dell'ambiente, del clima e della salute stanno alzando la pressione sull'ATS, i comuni e le aziende partecipate. Partirà una lettera al direttore generale Salvatore Mannino per chiedere di completare lo studio epidemiologico sulle malattie tumorali avviato da più di quattro anni e interrotto ormai da mesi in seguito a due pensionamenti. È dimostrato che il covid è più pericoloso dove l'inquinamento atmosferico è più grave ma non si vedono provvedimenti all'altezza dell'emergenza sanitaria e ambientale. Anzi il pacchetto 2030 proposto dal comune di Cremona e da A2A, Padania Acque e AEM insiste ancora troppo su carburanti fossili inquinanti. La via maestra sono le rinnovabili che dovrebbero garantire per il 75 per cento la produzione di elettricità riducendo drasticamente il consumo di metano, carbone e petrolio. Occorrerà però il coinvolgimento dei comuni tramite l'assemblea dei sindaci e del consiglio provinciale, tanto più in vista delle elezioni amministrative che riguardano 13 comuni e quindi del nuovo presidente dell'ente provincia. Un osservatorio indipendente sulla giusta transizione ecologica coinvolgendo anche personalità a livello nazionale ma possibilmente anche non solo nazionale anche internazionale che possano dare il loro contributo a un percorso, alla descrizione di un percorso, alla stesione di un percorso che sia effettivamente fattibile e che possa portare a questo importante risultato. Quindi col fotovoltaico, con altre soluzioni che in questo momento ovviamente magari non hanno ancora raggiunto l'efficacia e l'efficienza che dovrebbero avere, ma che si spera nei prossimi dieci anni con l'evoluzione tecnologica diventino effettivamente sfruttabili e convenienti. Ecco questo è quanto.